Giorni impegnativi per gli agenti del commissariato di Fano guidato da Stefano Seretti, che con l'aiuto delle unità cinofile ha condotto un'operazione antidroga nel centro storico della città, finalizzata alla prevenzione, visti i numerosi furti che sono avvenuti ultimamente nel centro di Fano, ritenuti strettamente collegati con persone dedite al consumo di droga. I controlli hanno portato all'individuazione di due giovani, i cui strani movimenti nei pressi di un bar chiuso in piazza veduti hanno insospettito gli agenti. I due sono stati inseguiti e bloccati dai poliziotti, che hanno trovato la ragazza, una fanese di 30 anni, in possesso di alcune dosi di cocaina appena acquistate, mentre lo spacciatore, un pesarese trentenne poi arrestato, aveva con sé altre dosi di stupefacente e 100 euro frutto della vendita. In zona Bellocchi poi, gli agenti hanno sorpreso due giovani del posto di 18 e 19 anni, i quali utilizzavano il garage di uno dei due come luogo di incontro per lo spaccio ad altri giovani fanesi. I poliziotti, grazie alla segnalazione della madre di uno dei due che aveva notato i movimenti sospetti dei ragazzi, hanno sequestrato 24 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 20 grammi ed hanno denunciato i due spacciatori. Infine, gli agenti hanno proceduto con l'arresto di un uomo sorpreso fuori dal comune di Fano per l'inosservanza alle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale a cui era sottoposto, disposta dal tribunale di Viterbo. Il 45enne, originario del Lazio, ma residente a Fano, inoltre è stato fermato a bordo di un'autovettura nonostante la sua patente fosse stata revocata, motivo per il quale è stato anche denunciato.